Romina posta la foto di Albano, a Cellino scopia il dramma della gelosia Il compleanno di Albano è passato già da più di tre mesi ma si scopre che quel giorno è successo qualcosa che ha scatenato il putiferio Cellino San Marco Il 13 maggio, giorno del compleanno del cantante di Cellino, sui profili social di Romina e Loredana sono spuntate due foto che le ritraggono con Albano Loredana l'ha postata appena sveglia con Albano ancora in vestaglia e il commento, il primo scatto di una giornata speciale Auguri A questo post, però poco dopo è seguito quello di Romina Power che non molla la presa e ha voluto festeggiare Albano con una bella torta al cioccolato e il commento Infiniti auguri, Albano Gli anni passano, ma chi li conta? Chissà cosa avrà pensato Loredana leciso e soprattutto, cosa avrà detto ad Albano Gli anni passano, non è successo